Ciao a tutti ecco questa piccola scatolina allora è venduta come scatola per porta aerosol io l'ho presa pensando poi magari di usarla per metterci altro come ad esempio magari dei cavi o i caricatori cose del genere sicuramente può anche essere utilizzata per qualsiasi cosa vogliamo allora al suo interno ha una piccola rete e niente l'interno qui è fatto come vedete in materiale abbastanza diciamo morbido cioè è panno qui abbiamo solo la rete qui abbiamo lo stesso materiale dopodiché abbiamo la cerniera una doppia cerniera sia di qui che di qui qui abbiamo una maniglia per trasportarlo in termini di comodità e di rigidità soprattutto come vedete se io schiaccio è sì abbastanza rigido ma ovviamente non è una scatola a prova d'urto cioè è molle quindi non può essere utilizzata se vogliamo proteggere oggetti magari che hanno bisogno di una certa attenzione però come contenitore secondo me va benissimo non costa neanche tantissimo e quindi può essere utilizzato per per diverse cose io magari lo userò credo quando quando viaggio per per trasportare cose in modo più ordinato ciao